Il gota dello sci femminile in allenamento sulle nevi del San Pellegrino. Tra le tante atlete che in questi giorni si sono ritrovate sulla pista nera alla volata per prepararsi in vista dei prossimi mondiali, spicca la presenza delle fuoriclasse Sofia Goja e Michaela Schifrin. Eccolo in azione tra le porte e non solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.